Sono Pachim Meduri, sono un architetto e non avrei mai pensato di fare lo scenografo nella vita, ma sono uno scenografo. Non ho fatto un tipo di carriera come quasi tutti gli altri scenografi miei colleghi, ma ho iniziato facendo teatro da scenografo, piccoli spettacoli, poi sono passato a fare piccoli cortometraggi, poi sono passato a fare piccoli film e poi sono passato a fare serie, tv. Ma l'ho fatto sempre da scenografo, per cui non ho mai fatto l'assistente in vita mia e mi manca fare l'assistente e aver avuto dei maestri. Qui ho dovuto sempre imparare da solo, andando a rubare, guardando altri film e vedendo come erano state fatte le cose e chiedendo anche consigli a dei scenografi con molta più esperienza di me. Ho un mio metodo di lavoro che non so come spiegarlo, per cui è un po' particolare e sono fondamentalmente un ossessionato dal mio lavoro, per cui cerco di farlo sempre al massimo. Ultimamente mi è capitato di fare delle cose molto belle, di cui sono orgoglioso, sia come serie tv, 000, Sesse Gomorra, Suburra, che come film, Tito gli alieni è uno di questi, Alaska di Coupellini è uno di questi, Padre Nostro di Claudio Noce è sicuramente uno di questi e Suburra il film di Stefano Sollima è sicuramente un film di cui ne vado fiero. Mi piace quando ho delle sfide molto grandi davanti a me, quando mi arriva un copione lo scelgo in base a quanto è difficile farlo. Perché? Perché mi piace mettermi sempre in gioco, mi piace sempre vedere, cioè cercare di superare i miei limiti, che sono non solo limiti lavorativi, ma sono anche limiti psicologici, limiti di ore di lavoro, di luoghi difficili da affrontare, quindi insomma mi tiene molto vivo questo e mi tiene sempre in gioco. Poi cos'altro dovete sapere di me? Che cerco di mettere su sempre delle squadre all'altezza dei progetti a cui mi chiamano a lavorare, mi piace di base lavoro, quasi sempre con uno scherzo di persone che mi seguono e poi cerco di trovare delle persone giuste per ogni progetto, che non sono sempre le stesse perché ogni tipo di lavoro ha delle difficoltà diverse, delle prerogative diverse, per cui le persone cambiano. Secondo me è giusto chiamare le persone giuste per il lavoro giusto. Però c'ho un mio scherzo di persone che mi segue da sempre, ormai da svariati anni e quelle sono la mia certezza e senza di loro un po' mi sento perso quando inizio un lavoro. Il lavoro per me inizia quando mi arriva la sceneggiatura. Le sceneggiature chiaramente racchiudono la storia, racchiudono anche a volte indicazioni sui luoghi e sui colori e sulla scenografia. Io cerco sempre di leggere facendole passare quelle indicazioni e trovando una mia chiave di lettura alla sceneggiatura dal punto di vista chiaramente estetico e dal punto di vista di luoghi per cui spesso cerco di trovarmi altre soluzioni a quello e mi piace a volte stravolgere quando sento la necessità di stravolgere. E mi piace pure a volte quando mi ascoltano. E quindi qualche volta è successo per fortuna, altre volte ci ho avuto torto e quindi non sempre. le mie idee erano le migliori di quelle del regista. E sono fondamentalmente, mi reputo una persona fortunata perché faccio un lavoro che mi permette di rimanere bambino, che mi permette di continuare a creare, che mi permette di viaggiare, di vedere posti nuovi, di conoscere persone sempre diverse. Tra l'altro mi pagano pure, quindi mi sembra un lavoro bellissimo. E poi, come dicevo, mi piace tanto viaggiare per cui ultimamente mi sono ritrovato quasi sempre in aereo, quasi sempre in città diverse, in posti diversi, vivendo sempre la vita dei posti in cui ero. E la fortuna dello scenografo è che non solo vivi nel posto, ma arrivi a conoscerlo spesso molto meglio di chi ci vive in quel posto. Perché nel giro di pochi mesi, grazie a location manager, grazie alle persone che vivono quel posto e che sono i tuoi assistenti, ti portano a vedere cose che ai più sono precluse. Per cui tipo pille private, case private, edifici abbandonati, parchi privati, biblioteche assurde, palazzi storici, quartieri degradati, quartieri dove non entrano nemmeno le forze dell'ordine spesso. Per cui conosci tantissime realtà. E per un amante della vita, un amante dell'umanità come me, mi piace tantissimo conoscere la conoscenza. e quindi sono grato a questo lavoro e sono felice quel giorno quando ho deciso di non fare più l'architetto, di aver cambiato idea. Ecco, non che fare l'architetto sia brutto, ma non faceva per me stare seduto in uno studio a disegnare per 12 ore al giorno, anche se poi alla fine si disegnano cose bellissime anche lì. Adesso, in questo momento, sono chiuso in un ufficio 10 ore al giorno a disegnare cose che speriamo verranno costruite da febbraio. e si può dire, tanto, sto iniziando la serie di Django, che è una serie western, e quindi costruirò i miei primi due villaggi western della mia vita e sono molto emozionato ed entusiasta. E stiamo facendo una ricerca enorme e anche qui sto cercando una chiave di lettura molto difficile perché di western ultimamente se ne sono stati fatti tanti e non solo ultimamente e quindi sto cercando di fare qualcosa di mio, ma insomma ci riuscirò, speriamo, vediamo. e poi niente, questo momento, come sapete, è un po' così, un po' tutto sospeso per cui non sappiamo quanto tireremo avanti in questa progettazione, in questo lavoro. come tutti voi siamo appesi a cose che non possiamo controllare in prima persona e questo è una cosa che mi dispiace perché mi sento totalmente impotente in questa situazione. però dobbiamo assolutamente credere che chiaramente sarà ed è soltanto un momento difficile, un momento di pausa, ma dobbiamo assolutamente ricominciare e continuare a lavorare, continuare anche da casa, continuare a studiare, continuare a ricercare. quello che ho fatto durante questo lockdown è stato quello di fermarmi, guardarmi tanti film, vedere le cose che non ho visto, che avevo per colpa di questo lavoro tenuto diciamo in pausa e leggere libri e quello è studiare fondamentalmente, arricchirsi per poi avere più forza e più idee poi dopo quando ti serviranno. quando mi hanno chiamato per fare 0-0-0, chiaramente è stato per me un bellissimo attestato di stima ed era anche una gran paura per me perché sapevo che sarei dovuto partire per più di un anno e mezzo da casa senza mai tornarci e in giro per il mondo e la mia grande sfida lì era quella di riuscire in una serie fatta di, formata da cinque paesi diversi e in ogni paese c'erano anche più città diverse, riuscire a trovare una chiave di uniformità, di stile all'interno della stessa serie mantenendo le forti differenze diciamo territoriali di ogni luogo. Lì è stata chiaramente una concertazione tra me, tra i direttori della fotografia e tra i registi chiaramente che sono tre, per riuscire a mantenere questa uniformità. Penso che ce l'abbiamo fatta, penso che esteticamente la serie sia molto interessante perché la scelta del location è una scelta che è stata sempre dettata dalla forza e dal carattere del luogo. Abbiamo sempre cercato di prendere, di scegliere delle location molto, molto d'impatto e che avessero in sé, che racchiudessero in sé l'anima anche del paese che le ospitava. E in modo tale che tu quando iniziavi a vedere qualsiasi, qualsiasi punto della serie arrivavi, anche se non leggevi il sottopancia del luogo, subito riconoscevi dove dove stava quella location e quindi è stata una ricerca molto molto attenta e molto minuziosa. Ovviamente avendo fatto tutto di fretta perché mentre giravamo in un paese io facevo le location in un altro e poi ritornavo nel paese in cui giravamo e poi ritornavamo nel paese in cui stavo facendo le location per girarci fondamentalmente. Quindi avevo una responsabilità molto forte che era quella più o meno della scelta delle location. Anche se spesso, per fortuna, sono riuscito ad avere il tempo di poter scegliere col regista, però altre volte ho dovuto scegliere io e quindi avevo una responsabilità doppia, il che mi metteva in grandissima crisi perché se sbagliavo era tosta perché non c'erano i tempi per poter scegliere altre location e fare altri scouting. Per cui quello è stato ed è stato bellissimo per me anche lavorare con differenti troupe anche del mio reparto e con numeri di troupe molto alte. In Messico, in Marocco avevo un numero di assistenti e di attrezzisti di cui nemmeno so il numero. Alcune persone non l'ho mai vista in faccia nemmeno, sapevo nemmeno che lavorassero per me. Ed altre invece, come in Italia chiaramente e negli Stati Uniti in cui c'era un numero più basso però con delle competenze molto forti. In tutto questo mi si è radicata l'idea sempre più netta che noi in Italia in quanto reparti tecnici siamo molto molto forti. Questo lo posso dire e per cui abbiamo un'ottima formazione e abbiamo una marcia in più rispetto a tanti altri che è l'improvvisazione. Ho visto tanti altri bloccarsi davanti a delle problematiche nuove che sorgevano. Noi siamo andati sempre avanti dritti e quindi senza nemmeno battere i ciglio abbiamo sempre trovato la soluzione. E questa è una cosa molto bella che ci contraddistingue e che fa la differenza in momenti di grosso stress e grossa pressione. Tito e gli alieni è il secondo film che ho fatto con Paola Randi. L'avevo fatto Into Paradiso, girato a Napoli, che mi valse la mia prima candidatura e Davide Donatello. Ero molto emozionato. Invece Tito e gli alieni è un film che abbiamo girato in Spagna, in Almeria e una piccola parte in America. Ed è un film, secondo me, dove tutti noi ci abbiamo messo un pezzo di sogno di bambino. Per cui è tutto molto visto dagli occhi di questi bambini e anche gli attori hanno quel tipo di mood, di atteggiamento. Per cui anche la mia scenografia doveva avere quello. Ed era realistica ma sempre un po' sopra le righe, quindi un po' sognante, un po' giocosa. Però nello stesso tempo cercando di mantenere il mio stile, quindi sempre polveroso, sempre un po' rotto, un po' nel mezzo nel nulla. E anche la scelta della location, secondo me, è molto azzeccata. Era bellissimo questo accampamento di elementi in questo deserto dell'Almeria. e poi lì abbiamo avuto questa idea di queste bolle che ogni giorno dovevamo gonfiare con l'aria e che poi il giorno dopo le trovavamo a terra dove abbiamo messo i bambini a dormire. E' stata una bellissima esperienza. Come per ultimo adesso ho finito il film di Giovanni Veronesi che sono i Moschettevi del Re. Quindi tutto 600. E' stata un'esperienza molto divertente perché era una commedia. Fondamentalmente la cosa bella è che abbiamo girato in Toscana e una parte in Roma, in Maremma, in Val d'Orcia, che sono posti bellissimi che io conoscevo poco per cui è stato bello trovare luoghi, campagne, castelli dove ambientare il Seicento. E' stato molto interessante. E invece prima ancora c'è stato il film di Claudio Noce, che è il padre nostro che adesso probabilmente è ancora al cinema. Ma sta andando molto bene. E' andato a Venezia in concorso per cui siamo molto felici. Claudio è per me un fratello, è il mio amico. Per cui abbiamo dato davvero il cuore a questo film. e io ho anche un po' più del cuore perché ho fatto anche un cameo. Quindi ho dovuto anche fare un piccolo ruolo ed è stato divertente, non l'ho mai fatto. Ed è un film, spero che chi non l'ha visto, di andarlo a vedere perché è davvero davvero un bellissimo film. Con degli attori magnifici. Pier Francesco Famino ha fatto un lavoro eccellente come al solito. Che poi ho ritrovato qui adesso con i Moschettieri. E anche lì ci siamo divertiti. Beh insomma diciamo che dopo la prima serie che ho fatto è stata la serie che poi mi ha portato a fare anche altri lavori. Che è Gomorra. Chiaramente non avrei mai pensato di farla. Ma poi ho avuto la fortuna di essere chiamato da Stefano Sollima. con cui avevo appena finito di fare un videoclip musicale. Lui si era ricordato di me e mi ha chiamato. E io ne sarò sempre grato. perché mi ha fatto fare, penso, il lavoro più importante della mia vita che è Gomorra 1. Ma importante non solo a livello di importanza in sé, ma importante per quello che mi ha lasciato. Perché ho imparato tantissimo. Ho scoperto un mondo assurdo e pazzesco che è quello della camorra. e l'ho affrontato in maniera molto da documentarista fondamentalmente. E quindi è stato per me un lavoro molto molto duro e intenso. E anche lì ho dovuto creare un mondo che fondamentalmente esisteva e non esisteva. e quindi ho, diciamo, il Gomorra Style è stato inventato guardando, rubando, shakerando immagini dal web, e dall'immaginario e dalla tradizione napoletana, ho messo insieme tante cose e è uscito fuori quello stile. che abbiamo trovato giusto avesse quella serie. E per fortuna poi si è rivelato vincente, perché è una serie che è stata venduta in 198 paesi del mondo. Non pensavo nemmeno che esistesse il 198. Quando ci hanno detto, quando stavamo girando Gomorra, ci guardavamo in faccia e dicevamo bah, chissà che cosa stiamo facendo. Non avevamo assolutamente idea di cosa stavamo facendo. E quindi eravamo così, andavamo a braccio, andavamo avanti. Stavamo capendo che stavamo facendo fuori qualcosa di molto forte e di molto bello. Però non avevamo l'idea. E quindi... Però sono molto molto soddisfatto di quello. Così come di Suburra, sia il film che la serie, dove abbiamo dovuto toccare i temi anche lì un po' più delicati, perché vivendo a Roma erano più nostri, che sono quelle delle mafie locali e di Ostia, la corruzione del Vaticano, della politica, di una certa mafia locale che è molto influente qui. E quindi siamo stati comunque molto attenti a cercare di mantenere l'asticella sempre alta anche lì sulla qualità delle immagini e di non essere mai banali e di non ripetersi. La mia paura era quella di ripetermi, ripetere ciò che avevo fatto in Gomorra, su Suburra. Spero di non essere stato così ripetitivo. Ho cercato davvero in tutti i modi di farla differente. Vi ringrazio molto e spero che questa... non so quanti sono... 20 minuti, mezz'ora di monologo siano stati graditi. Per me è stato un onore essere con voi e vi saluto. Ciao!